Dopo settimane di calo aumentano i contagi in Calabria, lo rende noto il monitoraggio della fondazione GIMBE relativo alla settimana dal 20 al 26 ottobre. Rispetto alla settimana precedente la diffusione del contagio risale al 42,8%, restano sotto soglia di saturazione ipostiletto in area medica con il 9% ed il 3% in terapia intensiva occupati da pazienti covid. GIMBE inoltre fornisce i dati anche relativi alla vaccinazione. In Calabria la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 68,9% contro una media nazionale del 75,1%. Nel frattempo si sta procedendo alla somministrazione delle terze dosi, finora pari all'8,9%.